Buongiorno dal Tg della mobilità, trasporto pubblico a rischio questo lunedì 8 marzo per uno sciopero generale dei settori pubblico e privato indetto dal sindacato CUB. La stensione è prevista di 24 ore nella capitale interesserà le reti di Atac e di Roma TPL. Previste le consuete fasce di garanzia a tutela dei pendolari dall'avvio del servizio di urno e sino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Maggiori dettagli sul sito romamobilita.it. E intanto per domani a Ostia è in programma una iniziativa, officine di comunicazione negli spazi di Viale delle Repubbliche Marinare che sarà chiuso al traffico. Sarà così deviata per tutto il giorno la linea 05. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della mobilità.